Salve a tutti ragazzi e bentornati oggi in questo mio nuovo video Oggi ragazzi ritorniamo su Call of Duty Infinite Warfare Hanno aggiunto come possiamo vedere i contratti, basta mettere a segno quelli di questa settimana diciamo Basta mettere a segno 30 colpi con l'equipaggiamento letale o tattico E praticamente vi daranno 15.000 PSM per i Wolverine Quindi punti esperienza che servono per avanzare con la squadra Wolverine E un altro contratto in aggiunta Esegui 125 uccisioni con una mitraglietta Io naturalmente ancora non l'ho fatto perchè ci metto sempre tempo a scaricare una patch E ci regalerà la ricompensa violazione arma epica che dovrebbe contenere un'arma epica Quindi voglio provarlo Quindi startiamo una partita multiplayer ragazzi Ok ragazzi partiamo dal presupposto che non ho mai usato una mitraglietta in vita mia E di solito vado sempre di fucile a pompa Quindi vediamo un attimino come potrà mai andare questa partita Il primo l'ho ucciso Secondo pure Buono Se continuiamo così il fucilozzo Lo liberiamo quasi subito E provo a fare il giro Da sopra E vediamo come va a finire Ho ucciso quello Ho ucciso questo Adesso mi sono bussato da sotto Vai sulla luna Però c'ero riuscito ragazzi C'ero veramente riuscito Proviamo a fregarli da qua Mi ha ucciso lui Eh vabbè ragazzi però Non è facile Salto i per luce E mi ritrovo l'alleato L'ho ucciso io Quest'arma non la conosco Per niente Ti ho ucciso io pezzo di merda Ne ho ucciso un altro Vai No Peccato ragazzi Peccato Era un'altra bella kill Oh non l'ho mai usata La mitraglietta ragazzi Ve lo giuro No 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 Ma di due Non ne ho beccato Nemmeno uno Incredibile ragazzi Incredibile E l'ho ucciso di nuovo E l'ho ucciso di nuovo Vediamo se mi spunto il coglione Un'altra volta da qua Vai 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 ragazzi Vai Se continuiamo così Faccio delle belle kill Mi ha ucciso una granata No Pensavo che era quella dell'alleato Invece no Ho ucciso io l'alleato Perché sono finito Sopra la granata Ma lui perché mi ha lanciato la granata Oh fantastico Questo è stato fantastico ragazzi Mi ha ucciso Manco mi ha visto Ma aveva già sparato Corone di supporto alleato Disponibile Corone di supporto alleato Disponibile E mi sparano da dietro No L'alleato Ho sparato all'alleato Incredibile oh Incredibile Manco gli alleati al loro posto Stanno stavano E non l'ho ucciso Due hit marker E non Manco un'uccisione oh Mi nascondo Riesco fuori Proviamo ad ucciderla Eccola 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 Cazzo Cazzo Questa Mi potevo uccidere un'altra volta Con lo stronzo Ma Non ci è riuscito E dove cazzo è andato Si è fatto tutto Cazzo di giro Ma Sono scomparsi ragazzi Non ne trovo più uno Perché ci sta Ci sta l'aereo sopra Che sta sparando Mi sa Ecco perché Non ne trovo più uno Uno ucciso Due ucciso Avevo finito le munizioni Il terzo Mi è scappato E qui Una bella granata In faccia Va bene Va bene E cado L'ho ucciso Però cado Come un coglione Naturalmente Vediamo se posso farne fuori Qualcuno Da qua dietro Si Uno E il due No E il due No Abbiamo vinto Però ragazzi Abbiamo Vinto Non era la mia Che l'ultima Se avrei ucciso Quello lì Sarebbe stata la mia Va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Con questa schermata finale Io terzo Vi raccomando Iscrivetevi al mio canale Soprattutto se non siete iscritti Commentate E ragazzi Spolliciate su questo video Vi raccomando ragazzi Noi ci rivediamo Al prossimo Splendido video Ciao Io